Per il 73% dei toscani il volontariato è fondamentale e quasi il 70% si dice disponibile a farlo in prima persona. È quanto emerge dall'indagine su un campione di cittadini condotta da CESFOT, Centro Servizi Volontariato della Toscana in collaborazione con Sociometrica. In quest'anno segnato dalla pandemia da Covid-19, il numero di toscani che ha fatto volontariato è lo stesso dell'anno precedente, il 16% della popolazione. Le categorie che hanno più bisogno di aiuto sono gli anziani non autosufficienti, i poveri, gli indigenti e le persone disabili. Il presidente Federico Gelli, il direttore Paolo Balli sono persone che con un lavoro di squadra, perché voglio ringraziare tutto il comitato direttivo che è rappresentativo dei vari momenti di associazionismo che il volontariato crea, hanno generato un organismo che ormai con il CESFOT è un'istituzione in Toscana. E riesce a sviluppare iniziative come questa, che da un punto di vista della statistica, di un'accurata verifica dei questionari, riesce a darci delle indicazioni importanti sullo stato della società, vista con gli occhi di chi sostanzialmente ha a cuore il volontariato, può offrire indicazioni proprio nell'anno del Covid. Un toscano su tre, il 32%, si è detto disposto a fare stabilmente volontariato e il 42,7% ha detto di poterlo fare occasionalmente. L'indagine ha fatto luce anche sugli effetti della pandemia sulla psiche collettiva e il 77% degli intervistati ha detto di soffrire di solitudine, mentre quasi l'80% ha detto di aver sofferto la chiusura dei circoli ricreativi. Questa seconda indagine annuale ci dimostra ancora di più che la pandemia non ha arrestato la voglia, la vicinanza dei cittadini toscani al mondo del volontariato, in maniera particolare volontari. Da questa indagine appare con chiarezza che i volontari sono ancora degli angeli che sono vicini alla sofferenza, alla solitudine, alla lontananza che purtroppo con la pandemia ha accentuato le sue caratteristiche. In Toscana il 96,9% dei cittadini conosce il volontariato e la parte che lo conosce più a fondo si registra tra i laureati. Grazie a tutti.